Anche un'ex rifiuteria può fare gola ai ladri. È stato divelto il tetto della struttura che si trova nei pressi dell'uscita Pratacci ad Arezzo per rubare tra i 300 e i 400 kg di rame. Ma dove stiamo andando? Che pena, ha commentato il vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini che ha mostrato su Facebook le foto dei danneggiamenti all'ex rifiuteria di Pratacci. Nel giro di pochi giorni dunque prima si è registrato l'atto vandalico alla scuola Vasari e ora questo ride probabilmente avvenuto nella notte con il furto di una ingente quantità di rame che sul mercato potrebbe valere fino a 2000 euro. Parte della copertura in metallo è stata infatti asportata. Un colpo che avrà richiesto l'impiego anche di mezzi di una certa capienza considerate le centinaia di chili di rame rubate. Il tutto a un passo dal raccordo autostradale. Grazie. Grazie.